Una frase che sento spesso da chi ha pochissima esperienza e non fa niente ovviamente per migliorare è una frase che mi fa sorridere Steve, le ragazze sono tutte stronze le donne sono tutte stronze? o sei tu che non hai gli strumenti corretti per riuscire a conquistare quella che vuoi? ora mettiti nei panni di queste poveracce le ragazze, sia quelle belle, carine, mediamente carine vengono avvicinate, approcciate praticamente dalle scuole medie ogni giorno quindi approcciate ogni giorno da ragazzi senza tatto senza sensibilità, senza un metodo, senza un minimo di brillantezza tutti uguali, questi uomini finiscono per provarci in maniera ripetitiva goffa e a volte anche squallida a quel punto le ragazze che non possono passare la vita a spiegarti quello che dovresti fare quel compito aspetta a noi si chiudono il riccio e danno risposte che possono sembrare acide e scontrose la loro non è cattiveria, è l'esatto opposto, è disperazione vorrebbero trovare realmente quello che sa cosa fare cosa dire, come dirlo, quando dirlo ma trovano solo invertebrati, l'uno la fotocopia dell'altro tanti piccoli casi umani tipo minion, però casi umani senza mordente, senza sensibilità, senza decisione, senza fantasia senza energia, presi male senza un minimo di educazione in questo ambito quindi possono apparire stronze ma in realtà stanno solo chiedendo aiuto boffa Grazie a tutti.